Le allucinazioni uditive possono consistere in voci che consigliano, rimproverano o accusano. Questo sintomo nella schizofrenia è quasi sempre centrale e i pazienti in cui è presente, per spiegarselo, sviluppano idee deliranti. Normalmente le voci si generano a partire da normali pensieri, che si vanno intensificando fino a divenire nella mente del soggetto vere e proprie voci ascoltate. Pur essendo le allucinazioni uditive la manifestazione psicotica più angosciante, vanno considerate, alla pari del disturbo dissociativo di identità, come una sorta di conoscenza incarnata delle molteplici tendenze che in presenza dell'assenza, ossia del paradosso che diciamo io, si aggregano o si scontrano. L'opera voci tenta di condurre chi l'ascolta verso l'ambiguità di questo sintomo, dove le stesse voci sono ad un tempo estranee ed intime. al fruitore viene chiesto di sedersi e di indossare degli occhiali opachi che gli impediscono di vedere. Poi una voce inizia a bisbigliare molto vicino ad un suo orecchio un testo di Nietzsche tratto da Nascita della tragedia. Contemporaneamente un'altra voce si sposta caoticamente attorno al soggetto, suggerendo con avvicinamenti ed allontanamenti la sua presenza nel contesto ambientale, sebbene la velocità e libertà dei movimenti facciano pensare ad un'entità incorporea piuttosto che umana, quindi ad una presenza simile a quelle che abitano alcune allucinazioni uditive. Ogni traguardo che raggiungi diventa una piattaforma stabile, la cui riesce ad osservare un po' più chiaramente. Quando quello gli cadde in fine fra le mani, il re domandò quale fosse la cosa migliore e più desiderabile per l'uomo, rigido e immobile, il demone tace, finché costretto dal re esce da ultimo fra stridule risa in queste parole, stirpe miserabile ed effimera, figlio del caso e della pena, perché mi costringe a dirti ciò che per te è vantaggiosissimo non sentire, il meglio è per te, assolutamente irraggiungibile, non essere nato, non essere, non essere niente, ma la cosa in secondo luogo migliore per te è morire presto. che io sono in te, mettila come sottofondo di tutto ciò che vivi e perderai molto più dolore di quanto ti possa arrecare. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.